Sono queste le condizioni del cortile della scuola elementare Curina di Arezzo, basta un po' di pioggia e tutto si allaga con conseguenti disagi per famiglie e alunni all'uscita da scuola. Il plesso scolastico si trova in via Alfieri ad Arezzo la zona e quella di Tortaia, un problema che i genitori avrebbero segnalato più volte all'amministrazione comunale attraverso l'invio di mail e foto all'indirizzo sia del comune che alla segreteria del plesso. Al momento però non ci sarebbe alcuna risposta. Non è certo una questione di vita o di morte ma indubbiamente è un problema che le famiglie vivono e sopportano a quanto pare da tempo. Intanto diamo voce e spazio ai cittadini quando poi l'amministrazione comunale ci vorrà rispondere faremo altrettanto.